Non abbo parte con la canzone Oh my friend, I'll pop sit Ma Gherino va a battivare Oh, come c'era me? Lo zio si è messo a piangere Ma Gherino ha fatto assist di Triwela Si Dove andiamo? Chunker, le chuker Chunker Ero è Qua Mamma, te facevo lo chukino Faccio che stai stacchi Che cos'è la scuola? Questa massa leggendaria che nessuno ha visto Mamma mia, che chiave, che era io che non l'aprivo Signor Kakashi, dove crede di andare? Signor Kakashi Lascia in pace al signor Kakashi Mio, lo devo stuprare Malavate Voi che posto ho uno spazio? si ho visto ho i shieldini ma mi è buttata roba che non mi piace questo ve lo vici mi ha fatto cagare in mano Dio maiale Dio maiale mi ha fatto cagare in mano ma di nuovo la pia peccato che pigli danno non vorrei dire c'è carlo tutti collegati comunque non vorrei dire però c'ho 10 splash e 6 shieldini ci vogliamo fare le splash deve venire da me eh stavolta qua vago ma tutto là fuori comunque non ho il il pompa a posto come si scende qua sotto non le scale qua a posto ok qualcuno le vuole portare 6 splash qua oppure volete 6 shieldini a posto c'è un bel fritto io lo d'assalto non c'è qualcosa io sto andando qui come vuole venire certo andiamo non mi ha fatto salire non ho capito perchè non mi ha fatto salire mi sembra un omosessuale la sopra comune blast che è quello si vede una volta borgonendolo blu ma non torna indietro ce li facciamo vai cazzo nel porto questo punto della mappa non l'ho mai sporato un provatore guidetto almeno non entra il contromano in autostrada vabbè e non si bacia dracula eh è la volta che non c'è aperto? no l'integmatico se gli ho messo la mia se 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 Sì, 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 sì. Ma tu si rompi tutto, no? Ok... Ah... Venite con me ora? Sì, aspetta un attimo. Bene, poi giampate e venite qua. Dove dobbiamo andare? Qua saprata via l'altro cavolo. Ah, ok. Questo qua. Ce la facciamo? All'udio maleale arotoxico. Ma una volta che serve la macchina non c'è mai. Quando non ti serve sta sempre davanti al cazzo. C'è gente là dentro. Qu'è? 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 Quoi? Qu'è? 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 Què? Qu'è? non è uno dietro ne avevi uno dietro come va a tracassotto chissà pago ehi tu qua va a tracassotto perché se guardi a sento passi che mi ha rubato la kill work mi servirebbe un assalto ancora con l'assalto bianco io guarda che cazzo guarda che cazzo eh non l'ho trovato qua ci sono due specie vediamola che cazzo c'è abbiamo fatto il prelibba per la vita o il bianco il bianco crit c'è o il prelibba o il poso per la vita un po' al finale decidi di che ce ne dobbiamo andare o il bianco e andiamo cari ah bella la festa qua va a caivano vicino ne aggempiamo qua qua Grazie a tutti 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 Da una parte ho visto un barile No Perché non mi aspettate per fare queste cose? Grazie a tutti Guarda Nabbo siamo dispermato Zoe Grazie a tutti Un'altra parte Dove cazzo avanti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti